Questa è la band di rock'n'roll più grande al mondo, i Rolling Stones. E questo è The Rolling Stones 40 Leaks, il primo album che contiene tutti i loro più grandi successi. Una collezione completa che abbraccia 40 anni della loro incredibile carriera. Un doppio album unico, con 40 pezzi, tutti rimasterizzati digitalmente. Ci sono anche quattro nuove canzoni, un libro di fotografie inedite e un portachiavi in edizione limitata. Assicurati il meglio dei Rolling Stones 40 Leaks, chiamando questo numero o ordinando online. Can you get no satisfaction?